4 modi per ferire il suo orgoglio così che lui ti ami con assoluta devozione. Prima di affrontare il tema però iscriviti al canale, attiva la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, seguimi su TikTok e ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare scegliendo tra diversi livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare alle live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni seminari dal vivo, abbonamento master consulting con in più una consulenza telefonica. E veniamo al tema. 4 modi per ferire il suo ego così che lui ti ami con assoluta devozione. Allora, se vuoi far innamorare un uomo, se vuoi far sì che un uomo si innamori, si coinvolga con te, quello che devi fare è imparare a ferire il suo orgoglio, ferire il suo orgoglio, il suo orgoglio di maschio affinché lui inizi a fare delle cose su di te, inizi a investire su di te, inizi a mettere energia per te e questo piano piano lo farà coinvolgere, lo farà coinvolgere sempre di più e questo piano piano lo farà innamorare sempre di più. È molto importante imparare a colpire, a ferire il suo ego affinché possa coinvolgersi, affinché possa innamorarsi. Questo è quello che devi imparare a fare, quello che devi riuscire a fare se vuoi far sì che un uomo si coinvolga, se vuoi far sì che un uomo si coinvolga e si innamori di te. Allora, quindi quali sono le strategie che devi utilizzare per fare questo? Beh, ci sono quattro modalità fondamentali, molto importanti affinché questo avvenga. Il primo modo è quello di non farti vedere gratificata sessualmente, cioè devi evitare di far sì che lui ti veda gratificata da un punto di vista sessuale, far sì che lui ti veda gratificata da un punto di vista fisico, perché se lui ti vede gratificata sessualmente, se lui percepisce che sessualmente tu sei coinvolta, se lui percepisce che sessualmente tu sei gratificata, beh, questo rafforzerà, è come dire, è come se fosse certo di aver fatto il suo mestiere e quindi è giunto il momento di andarsene a cercare un'altra, di andarsene a cercare un'altra che possa essere gratificata, un'altra che possa essere coinvolta. Questo è un punto molto importante, un punto fondamentale. Devi far sì che questo avvenga, quindi se invece non ti fai vedere gratificata sessualmente, se ti fai vedere che sessualmente non sei completamente coinvolta, beh, questo tenderà a fargli innamorare, tenderà a coinvolgerlo, perché lascerai una gestalt aperta, cioè lascerai un punto interrogativo aperto, quindi lui sentirà sempre di più l'esigenza di cercarti, sentirà sempre più l'esigenza di, come dire, di voler chiudere questa gestalt e quindi inizierà a investire su di te, perché l'obiettivo è quello di farlo investire su di te, questo è il punto fondamentale. Quindi questo è un... perché poi più investe, più si coinvolge, più investe, più si innamora. Questo è il primo punto fondamentale. Il secondo punto che devi tenere presente è quello legato invece alla capacità di, come possiamo dire, far innamorare attraverso gli antagonisti, quindi deve percepire che ci sono altri uomini che sono interessati a te. Questo perché innesca un meccanismo che ai uomini piace molto, tra virgolette, innesca un meccanismo che fa innamorare molto di uomini, ed è il meccanismo proprio del coinvolgimento, il meccanismo della competizione con altri uomini. E questo è un altro punto fondamentale. Se tu ti fai vedere che... lui deve percepire, non è che devi dirglielo tu, lui deve percepire che ci sono altri uomini che sono coinvolti con te, deve percepire che ci sono altri uomini che sono innamorati di te, e questa percezione, diciamo, di questo fatto farà sì che si coinvolgerà, farà sì che si innamorerà, farà sì che piano piano, diciamo, ti troverà sempre più interessante. Questo è un altro meccanismo molto importante, un altro meccanismo fondamentale per ottenere dei risultati, un altro meccanismo fondamentale per ottenere innamoramento. Ecco, questo è quello che devi imparare, quello che devi, diciamo, imparare se vuoi raggiungere dei risultati, se vuoi raggiungere dei risultati, diciamo, da un punto di vista sentimentale affettivo, cioè se vuoi far sì che lui si innamori. E il terzo modo, la terza modalità, è che devi essere tu sfuggente, diciamo così. Nel caso degli antagonisti vai a innescare la sindrome di Romeo e Giulietta, cioè di questi antagonisti che contrastano, che bloccano. Nel caso, invece, in cui, diciamo, sei tu che sfuggi, vai a innescare la sindrome di Dante e Beatrice, cioè lui inizierà a percepire solitudini abbandonite, rifiuto. E questo è molto importante, quindi farti percepire come sfuggente, farti percepire come poco interessata a lui, nel momento in cui però l'hai stimolato, ovviamente, perché se prima non stimoli, beh, non riesci a raggiungere nessun risultato, cioè se prima una stimolazione, e poi quando lui ti cerca, quando lui vuole ottenere qualche risultato, tu non devi fargli percepire assolutamente di essere coinvolto. Questo è quello che devi imparare a fare se vuoi ottenere dei risultati, se vuoi far sì che questa persona si coinvolga, se vuoi far sì che questa persona si innamori con te. E il quarto punto fondamentale, diciamo, per ferire il suo orgoglio, affinché lui ti ami, diciamo così, è quello di utilizzare, diciamo, il condizionamento operante o rinforzo intermittente, cioè alternare gratificazioni e penalizzazioni. Alternare gratificazioni e penalizzazioni affinché lui, come dire, si innesca a questo meccanismo, no? Cioè ogni tanto lo gratifichi e ogni tanto lo penalizzi. La penalizzazione può essere semplicemente l'assenza della gratificazione. Ti fa vedere un po' disponibile, un po' non disponibile. E' quindi altalenante. In questo modo inneschi questo meccanismo del condizionamento operante, studiato da Skinner, Bandura, in cui quando c'è un rinforzo intermittente, che va e che viene, genera coinvolgimento. Quindi è l'alternanza della gratificazione e della penalizzazione che seduce. Se è solo penalizzazione, certo seduce, ma poi innesca meccanismi di difesa. Se è solo gratificazione, è come dare a un pesce, diciamo, come dire, cioè andare a pescare senza amo, il pesce si ingrassa e poi se ne va. Mentre invece l'alternanza della gratificazione e della penalizzazione è quello che seduce, è quello che coinvolge, è quello che fa innamorare. E in questo modo offrisci il suo orgoglio, e offrisci che lui si innamori di te. Bene, per questo video è tutto. Se ti è piaciuto, metti un like, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, mi raccomando, attivando la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. In più, ti ricordo di seguirmi su Instagram, massimo terramasco ufficiale, su TikTok. E ti ricordo che sul canale ti puoi abbonare, basta andare nella home page, tassina abbonati, vicino al tassino iscriviti, e selezioni l'abbonamento che preferisci. Ti ricordo che su questo canale ci sono 4 livelli di abbonamento, abbonamento live per partecipare a live, abbonamento base con lezioni mirate, abbonamento top con lezioni mirate e videoregistrazioni, seminari dal vivo. Ciao a tutti. E abbonamento Massa e Consulting, con in più una consulenza telefonica. Ciao a tutti.